Se insieme ai tavoli burocrazia, spazi e risorse proponessimo un tavolo poesia, un tavolo creatività, un tavolo arte, io non so se quanti di noi vogliono morire come imprenditori, morire sotto il peso dei bandi, sotto il peso delle virgole, delle rendicantazioni, siete artisti, io non lo sono, voi siete artisti, per questo prima dicevo, chiamavo la responsabilità, siete 10 km avanti a noi, Ma te rinuniamoli per la vostra, noi rinuniamo sotto la burocrazia, esatto, e vi vediamo voi, però ecco, non lo so, lanciamo anche un po' una visione del mondo, grazie. Allora, io non ho capito se Giorgina Virossi deve intervenire o no, perché io qui ce l'ho segnata, ma c'è? No.